benvenuti a fiore che ride news sempre peggio sempre sempre vabbè dai siamo la puntata numero 51 slash 09 e abbiamo siamo partiti con questa bellissima introduzione del nostro unico inimitabile qua paperetti eccolo lì pronti tutto bene ecco li saluti fan graziano adesso vedi che si apre la porta vedi la seggiolina che scorre e va oh mamma mia dai scaldiamo subito gli animi dai mandiamo subito una bella canzone su tutti in piedi pronti a ballare eccoci qua è perché io cercavo filler e filler senti che è fever semmai fever dice fever e la canzone si chiama fin grazie finché finché quando passa passa allora qua paperetti adesso dobbiamo parlare qualche minuto che adesso la devo introdurre ancora e vabbè tanto io sono ormai sono il suo braccio destro meno male meno male che ci sono io eh già vabbè allora qua paperetti ci ha preparato una canzone una canzoncina sì una lei lo sa mizu come si chiamano i top innamorati i top innamorati no lo dico io ha paura ha già paura sì perché ma sinceramente anche a me ovviamente nulla non so vabbè ve lo dico io mini i top innamorati si chiamano innamorati non è riuscito neanche a mettere l'applauso neanche è sveluto beppe ma è morto beppe beppe pronto beppe è caduto giù beppe sull'innamorati non se l'aspettava non sa guardi che questo è peggio di quelle di palline guardi questo è un colpo da contrabbasso